Faccio leggere i carti. Faccio leggere i carti. Voglio far fare i tarocchi. Allora, forza. Scegli quattro carti, dai. Quattro? Sì. Tomaso. Eccola qua, vai. Fammi sistemare. Che vuoi sapere? Amore, lavoro, passioni? Il futuro. Il futuro? Ce l'ho. Ecco qua. Voi siete molto amici, vero? Sì. Però, non so, ho come l'impressione che litigate spesso. Vuoi di che ci prendi? Lavoro mio. Tu sei un creativo. Fai un mestiere creativo. Non so, sei un artistico. E tu che eri scettivo? Ah no, questa è una bella cosa. Farai un lungo viaggio. Lunghissimo, tu. E' un grande. Hai capito? Vabbè, se mi cerchi sto qua, eh. Ma che c'è, sei ingazzato? Oh, com'è solo? Non sai che stava, ma che mi vuole bene. Che io in questo momento non godo di ottima salute. Ah, mi dispiace. Ma comunque tu sei grande davvero. Gli altri pensano che sia tutta una fronzata, questa di Tarocchi. E invece... Tu ci credi veramente? Vabbè. Aspetta, aspetta. Non già una lira, vero? Vedi che sempre... Ti ho detto che sei il numero uno. Sarà capito, va bene. Chiama? Enzo. Ciao, Enzo. Oh, buona fortuna, eh. Domani un altro giorno si vedrà...